Nei giorni scorsi è stato presentato il calendario 2018 realizzato dagli alunni della Scuola dell'Infanzia del Primo Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Riposto, in una cornice di festa che ha visto coinvolti genitori, corpodocenti e istituzioni scolastiche, tutti riuniti per l'occasione nell'aulamagna dell'Istituto Tecnico Enrico Fermi di Giarre. Durante la conferenza di presentazione sono intervenuti i docenti Sissi Sardo e Salvatore Spina, del Dipartimento di Scienze Umanistiche e dell'Università di Catania. Il sindaco di Riposto Enzo Caragliano, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Altomonte e per la provincia di Catania Emilio Grasso. Si sono inoltre esibiti i ragazzi dell'orchestra e del cuore arcobaleno del Primo Istituto Comprensivo. Abbiamo un presso scolastico veramente all'avanguardia, l'Istituto di Monomini Comprensivo è uno dei migliori, più valide. E oggi questa presenza, questa ulteriore attestazione, non solo di tutto questo bel corollare di gente, ma soprattutto di professore e quant'altro, servono a valorizzare quelle che sono le ricerche e gli sforzi che mi estende. E così anche della presa di tutto il corpo docente. È un onore per me essere qui, questo è un appuntamento consueto ormai. Io quando mi è possibile vengo sempre volentieri perché c'è sempre un clima di festa e ci sono anche delle trovate divertenti che mi fanno vedere un aspetto della scuola che io purtroppo per il lavoro che faccio non vedo spesso. Quindi sono molto contenta di essere qui, conosco la preside d'Anna, ne conosco la competenza, la creatività e vorrei che tutte le scuole della Sicilia fossero come questa. Il calendario è considerato un fiore all'occhiello dell'Istituto e quello presentato quest'anno continua una tradizione inaugurata ben nove anni fa. Questo calendario è inserito nell'ambito di un progetto, il progetto si chiama Sicilia Crogiolo di Civiltà e non è altro che un progetto che ha come finalità la conoscenza del nostro territorio. Questo progetto sono stata io a portarlo a riposto ed è da ben nove anni che lo portiamo avanti seppure in un primo momento aveva un'altra denominazione, riposto tra l'Etnello Ionio perché chiaramente la conoscenza del territorio si è sempre di più allargata. Siamo partiti dalla nostra città, riposto, e poi man mano c'è stato sempre più un voler approfondire gli argomenti connessi al nostro territorio. Oltre alla funzione educativa, il progetto, coordinato dall'insegnante Giovanna Messina, mira a valorizzare il ruolo della scuola, vista non solo come mezzo per la trasmissione della cultura ma anche come centro di produzione della cultura stessa. Un progetto che aiuta i bambini a sviluppare le capacità di lettura e scrittura utilizzando il linguaggio loro più congeniale, ovvero quello grafico, pittorico e plastico. È più che un calendario, è un vero, è proprio almanacco per la ricchezza di immagini, informazioni, curiosità che in esso sono contenute. Sicuramente è un lavoro pregevole, di grande valenza educativo-didattica e rappresenta una vera e propria innovazione che io auspico possa essere realizzata anche da altre scuole del territorio.